eccoci eccoci ben ritrovati con il secondo contributo di giornata oggi lunedì 26 febbraio ci avviamo anche alla conclusione di questo mese come sempre ragazzi vi ricordo di iscrivervi al canale tanto è semplicissimo e facilissimo e anche gratuito basta un clic vi iscrivete al canale così avrete sul vostro smartphone tutti i video gli aggiornamenti appunto gratuitamente partiamo partiamo con questa seconda analisi dopo quella effettuata questa mattina con il video di stamani sull'1 a 1 tra milan e atalanta abbiamo detto un gran peccato grande rammarico anche un po di nervosismo da parte del milan per questo rigorino assegnato all'atalanta un calcio di rigore molto 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 generoso abbiamo visto che in passato ci sono stati altri contatti molto più gravi non sanzionati ora per questo tocco di girù su una parte del corpo diversa rispetto a dove olma si è poi toccato ovvero il viso la testa è un contatto con intensità molto molto lieve è stato purtroppo assegnato un calcio di rigore che ha penalizzato il milan ha penalizzato la classifica rossonera una gara ben interpretata e ben giocata dalla squadra di stefano pioli purtroppo però ragazzi è andata così in quest'altro video però vorrei soffermarmi su un giocatore allora attenzione a quello che vi dico non non è un video per criticare raffaleao tutt'altro è un video per spronare raffaleao è un video questo dove si mettono il risalto delle parole che forse sono state non colte appieno dai tifosi nel post partita invece bravo a chi le ha colte su sul miglioramento di questo giocatore raffaleao lo sappiamo è il miglior giocatore del milan quello più costoso quello che guadagna di più la stella ma è un giocatore che deve essere continuamente pungolato stimolato deve essere un giocatore continuamente messo sugli attenti ecco perché ogni tanto si lascia andare la questione le hao è anche bella da analizzare perché parliamo dell'eccellenza del milan però raffa non sempre gioca partite come ha giocato ieri contro l'atalanta la domanda è perché perché se un giocatore così bravo così forte così talentuoso così bello da vedere perché raffa non è mai continuo nell'arco di una stagione perché raffa non in in anella 5 6 7 10 prestazioni di fila come successo contro l'atalanta ed è un qualcosa che non sottolineiamo solamente noi o voi tifosi che scrivete nel nel canale sotto al canale nei commenti ma anche l'allenatore e compagni di squadra attenzione a cosa dicono florenzi e stefano pioli su raffa leao ovviamente elogi importantissimi per raffa che ieri ha segnato uno dei gol più belli degli ultimi tempi doppio dribbling su scalvini e su olma tiro che poi si insacca alle spalle di carne secchi va a finire nell'angolino alto applausi a scena aperta per raffa leao però pioli dice credo che sia stata una delle sue prestazioni più belle per qualità e continuità e su questo siamo tutti d'accordo poi dice attaccato di continuo gliela farò pesare questa prestazione a queste possibilità e deve sfruttarle non dipende da nessuno solo da lui parlerò con lui per capire cosa ha fatto di diverso e ragazzi questa è una dichiarazione interessante quella di pioli cioè dice gliela faccio pesare a raffa leao questa prestazione perché dice caro raffa se tu sei capace di fare queste giocate questi gol queste prestazioni questi assist ma perché non li fai sempre o più spesso perché non sei più continuo e secondo me è la verità perché stiamo parlando secondo me di un potenziale enorme ma che vediamo solamente a sprazzi secondo me in serie a un giocatore come raffa leao la serie a non è non ha un livello altissimo in questo momento purtroppo un giocatore come raffa leao deve segnare molto di più e deve fare molti più assist ma lo diciamo per il bene del milan e per il bene del giocatore cioè è una critica a fin di bene è come quando si va a scuola e la maestra ci dice o dice ai genitori è un bambino molto intelligente ma non si impegna a sufficienza la stessa cosa è per raffa leao ha delle qualità immense ma le fa vedere solo di rado o comunque meno di quello che vorremmo vedere gli raffa e pesare questa prestazione ha delle possibilità enormi e deve sfruttarle dice pioli non dipende da nessuno dipende solo da lui parlerò con lui per capire cosa ha fatto di diverso nella partita con l'atalanta rispetto ad altre partite e questo lo dice pioli anche florenzi poi lo dice dice tutti sanno quello che penso di raffa voglio dire che pretendo da lui prestazioni simili a quella di questa sera ovviamente la dichiarazione è stata rilasciata ieri sera per questo dice pretendo prestazioni simili a quello a quella fatta contro l'atalanta praticamente e perché florenzi pretende queste queste prestazioni questo livello così alto perché raffa è capace e capace lo deve fare di più quindi diciamo così col sorriso sulle labbra è stato un pochino bacchettato da florenzi e pioli perché vogliono vederlo più spesso in queste condizioni ditemi ditemi anche la vostra cosa ne pensate poi vorrei analizzare soffermarmi anche su un'altra prestazione su un altro giocatore che secondo me è stato il migliore in campo se escludiamo leao o comunque se includiamo invece la bellissima prestazione di raffa è stato il secondo migliore in campo cioè yassin adli ragazzi yassin adli ieri ha sfornato una prestazione solidissima giocatore sempre attento lucido nei passaggi nel nell'intercettare il pallone in fase difensiva nell'opporsi all'atalanta nel rompere le trame offensive della squadra di gasperini mi è piaciuto tanto anche in un paio di interventi in scivolata rischiosi ma lui ha rischiato e ha fatto bene per esempio su cup miners che si stava avviando al tiro alla conclusione verso la porta di mike megnan bravo yassin adli bella prestazione bella gara qualcuno era un po scettico nella decisione pre partita da parte di stefano pioli quando l'allenatore milanista ha scelto il francese in cabina di regia e non reinders e invece bisogna dire usiamo una metafora il professor adli è sceso come dire con la giusta mentalità in campo ed è stato quindi un regista veramente con i fiocchi quindi bravo yassin adli mi è piaciuto molto nella nella sua prestazione il regista francese ha completato una gara davvero a pieni voti tra l'altro è stato è stato schierato davanti la difesa in questa sorta di 4 1 4 1 perché adli è giocato davanti al quartetto difensivo formato da florenzi malic ciao gabbia e te vernandez tra parentesi anche florenzi gabbia ciao e teo meritano una menzione perché hanno giocato tutti benissimo anche lo stesso ciao che era stato criticato a monza e a proposito di monza adli dice ci sono rimasto male ci sono rimasto male perché a monza ho fatto una partita bruttissima virgolettate dichiarazioni di adli volevo dimostrare che sono da milan e che posso giocare qui al milan ha detto yassin adli dopo la prestazione la bella gara contro l'atalanta però sottolineiamo anche l'onestà di questo giocatore che non fa dichiarazioni banali non fa dichiarazioni come spesso succede nel calcio dove non si dice mai la verità lui dice la verità ci dice sono rimasto ci sono rimasto male perché a monza ho fatto una brutta partita una partita molto brutta e volevo dimostrare che sono da milan quindi in effetti dice quello che un po tutti abbiamo pensato a monza ha giocato male con l'atalanta ha giocato bene quindi è un yassin adli che mette in risalto anche il suo differente approccio tra le due partite vorremmo vedere più spesso anche per lui la versione vista contro l'atalanta e non quella a monza detto questo ragazzi in questo video volevo semplicemente elogiare due giocatori del milan molto spesso siamo critici nei loro confronti ma quando lo meritano vanno giustamente elogiati in questo caso leao e adli poi nel nei prossimi video parleremo anche di altre notizie che riguardano altri argomenti del mondo rosso nero vi ringrazio come sempre ciao